Vittorio Live 1 Porco Dio Vittorio Live 1 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 capito qual è? la prima fase è qua, la seconda fase è con il coso più e io compro quello se arriviamo a cosa, io non lo so, io trovo dei pacchetti, io ancora non ho un'idea mi si è boccato il pigiama, dici il pisello di fuori, dici il live, oh cazzo, cazzo me lo elimino, no no, ma vai, ammazzo, io non mi so bello queste cose, prendo, è il minatore, che bello, cazzo fra, io mi compro il coso, un balletto ma credo, vogliamo comprare poi, non armi, capito, ah cazzo e dai santissimo Dio della Befana, se si rompe là bello, bello pure io sarei deciso su quello delle anime, oppure su questo, no vediamo andiamo in una città che non c'è, non c'è tanta gente perché sennò poi, che facciamo, scattiamo subito la prima botta no, la vingo la prima botta oh io quando ho chiuso il gioco mi si è chiusa la live perché poi sono andato a mangiare ah ha mangiato, è scalata fino alle nove e mezza, dieci non è più, ora che lo sono le otto, facciamo la live fino alle dieci e mezza ok andiamo in una città desolata perché ormai non dà mangiare, sì mi l'ho buttato perché ormai non dà ammazzare pure tu cazzo si è bigliettato tu, buttati a satana nella zona in cui ho vinto la partita fra madò quando sei molto tu, però non sto andando a questo punto è andato all'osso blu io, io da me sono in una casetta ma tu non ti sei buttato fra? ah sì mi stanno spallando mi dico se uno non è andata a casa non andi però no, stai prendo una casa l'ho chillato però, l'ho chillato in tempo una bella simba però fra io sto atterrando dimmi se c'è gente c'è, da me t'era uno ce l'ho chillato subito nabbo tutti nabbi qui c'è gente, voglio aspetta zi, dopo mi posso aprire questa casa vicino a te e sei tu non da me l'amico da fangolo no, se mi killa è una merda ecco qua tomba ha il pomba zi non ti posso aiutare il mio muro è tra me aiuto killalo, killalo fra fra non posso sai che vuol dire fra non posso che cazzo che cazzo che cazzo è bassissimo aspetta che sto ho un'arma e questo che cazzo che cazzo che cazzo che ci congela che a me la faccio non c'è un bia wifi e poi non vedi la wifi e poi solo che cazzo ok e alla madonna non ci muovevo credere meno ragazzi sento qua è una bandita da freddy ma facciamo vedere chi ti manda a sti bimbi minghia io sto salendo a casa bro io frate sto correndo con la bicicletta con la mia tipo su le braccia che cosa hai mangiato tu? no non hai mangiato prima ma che roba voglio ammazzare i porco ma mi ammazziamo e sono le 8 7 e poi vi sa che era torni così gioca ok mi sto slegando le cuffie porco di quanti punti ho perso 18 sono sceso vediamo posizione io ho pure un bel paracadute se no non sono contento ho pure della lì di babbo natale perché sto poverando cosa? mi busco i paracadute sto vedendo ormai poi perché poi man mano speriamo che si sblocchi speriamo che si sblocchi speriamo che si sblocchi oh in boia nì da ora in boia non lega che va ti da quei ticket quindi con boia cavallo speriamo che si sblocchi ci dà il piccone che cosa speriamo se c'è pure un buio i pacchetti sì via n perché ti danno in questo pacchetto se ti da no ti asso andrà schermo acquista dieti pezzi no la schiengita quindi come bella vuoi vedere la mia no alla mia piccone però fra la mia fosse da più aspetta no invece quella di ghiaccio ti dà pure i detti a plano z oh ma io do il caso puoi andare ad analizzare delle robe divertite complesse ma 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 è una truffa perché stai visto sto scioppando zi ho appena trovato una copertura di merda oh no ragazzi di merda sto gioco perché ti fanno aspettato io sto controllando una cosa subito boom ma che siamo di premere mi ha fatto questa cosa madonna già siamo i primi zio rai questa è la discorreta rai da dopo vi prometto saliamo oro e saliamo in dembo fatti un altro uno versus uno però nell'arena a sto dire moronmi moronmi che cosiddio moronmi eccomi ti seguo zi andiamo andiamo in una città che non ci sia tanta gente che ci aveva pochissima gente no andiamo adesso andiamo verso palmoburgo al 3 del vendo io lo alzare un tipo di giro vedo se mi carica la cosa la mappa zio fra almeno non mi carica la mappa non vedo che sto andando figa si però almeno mi carica la metà di mappa non mi carica distaccare dai la c'è la famiglia io allora stai non ti voglio andare tu smetti di seguirmi io se mi ingurla non so colpa tua ma tra poco mi ingurla ancora non non c'è nessuno da me c'è un team porco due che faccio con un bomb se riesco la cappa viola buono oh ma sempre cappa viola se si trovano però io l'ho un bomb viola è un bomb bomb ho trovato la pistolicchia mia un po un altro bomb due bomb fra io ho trovato l'armi legale ora la che vi usate in partita io ho trovato un altro pistola non cosa col milano ma la mia la pistolicchia guarda la vincata c'è la par ricorda la mia che ha la mia che porco santo mi 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 hanno sparato con quella pistolicchia o qualcuno ma la molle che si aiuta a fangucciolo oh madonna divina quasi coglione ecco qua tombola mo mo aspetta il ma la mia vita è 100 indovina quando ho perso eh la mia vita è 100 indovina quando ho perso 101 101 101 ma che stiga la vero nico dammi subito di la pistolezza ma sono un signo nervoso non è questa è questa fra l'ho trovata fra l'ho trovata fra è qua tombola non è bianca però ma più comunque almeno è storia vediamo quando è migliore ragazzi prendiamo ingrativa e prendiamo tutte le pistole che non già mi fanno prendiamo pure i carramati almeno curiosità la pistola con brino pompa si 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 pompa pompa così si in culo in culo ti spagli spagli il culo ti immagini tu da lontano che spari con quello che vado da vicino gli spacchi il culo mi aspetta non me la me che dirò la mia capa viola la mia capa viola mi 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 servono i colpi del pompa porco giudo che gli spacco il culo 0 spetta 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 no non era un gespuglio non di tutti quelli ok si sta avendo 15 se giusto io colpi di pombo che prendo io stavo ormai ambo verde non mi piace ambo blu giusto o ti servono i copi in che e in che colpi va la pistoletta vai ne copi va 9 mm questi che sono 9 mm aspetta che ti do tutti quindi ne hai 126 ok detto di 90 che avevo macchina cecchino oh eccoli la pistoletta con due anni no no santissimo madonna santissima amadosca sua sorella fra io non ho capito che erano da dietro fra io pensavo che erano dall'altro lato sai non li ho visti si stronzi porco giudo mandiamo in una città che si è desolatissima andiamo a credere in mania la madonna tutto 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 bello zio mello frate da però sei rientrato dobbiamo arrivare a 2150 per arrivare a oro frate non fosse persona ma mi deve aspettare zio spiega che porco giuda madonna mia l'aspetto non ci sono sembrava che era la mia schiena ma non era amici che bella schiena che ha oh mo si mandiamo in un posto desolatissimo io sto dentro ti sei buttato si dove cazzo stiamo andando andiamo la a faro no qua io l'ho fatto tu tu fai dove vuoi ecco no tim ti eravamo cabbro puoi e piaga da poter puoia mi ha male che non sono sceso io gli resti di me e dove sono andato io quando ti è stupato eh se ti chilo non ci vengo a questa parte mi sono andato la fattoria mi sono andato la fattoria mi sono andato la fattoria ti freaky da me non c'è nessuno io doppio mi sono andato la fattoria no se no se no ho un'arma sono l'arma è RPG ma che se è sfriga front se lo hai chiamato figli qua io muoio davvero eh eh tu che ti ho detto tu non mi segui mi sono pure in safe mi sono pure in devo camberare per salire di punti o lui la cambero perché così saliamo di punti possiamo ps cosa invece andiamo a pushare un cazzo facciamo voglio pose ma c'è qualcuno che viene da dietro mi mamma miki che è successo a mia però e ospe che sono orde la cosa nel live l'aronna mia papa che si sarà che il canale che sta scendendo una cosa perché sta aiutando mamma sta facendo guai aiuto oh tengo le cuffie non mi vedo io me ne l'ho petto roto siamo in 66 no, 63 ok ho chiuso la porta ho chiuso la porta mamma mia donna mia sai dalla metà Zito, see quando ti dico una cosa le cose che dico io Zito lo faccia hai detto hanno pescandabita a voi Sì, sicuro di quello di qui. E come mi chiamiamoci? No, tu hai visto, è l'andeggia. Come ti dici? Con il rispietto tu hai visto l'andeggia. Mamma mia, come stai laggando per la cazzo da live. Oh, mi servo un bomba e sono a posto, figa. Sì. Tu hai visto l'invento, non c'è mai comandata. Ma tu, se lo fai scenduto. Ma tu hai visto l'andeggia. Sì. Ma la parola, sì, grazie. Mamma mia. Che cazzo è questo? Ah, sono rovinato. Se ho un bomba, passava un cuneo e fico da bombato in bacio e ero giusto. Ok, quando vieni. Va bene se moriamo decimo, nono. E' buono. E' buono. Siamo in 40... 46. Siamo in 46, ragazzi. Oh, non vedo troppo rumore che... Oh, non vedo troppo rumore che... Madonna mia, che sta succedendo? Eh, porca puttana... Ah, siamo in 45. Andò. Vai, morite. 25 persone. Non ho capito perché stanno facendo chili di pompa. Non ho io pompa. Non ho io pompa. Vuole questo di pompa. Ma se passa qualcuno... Mi scorto la minchia. Siamo in 41. Quanto... Siamo in quanto è lontano. Sì, cazzi. Ho fatto un pompa. Ah, va. Siamo in 35, porco santo. Ne facciamo morire altri, così io li muoio... Muoio... No, un ottavo. Così facciamo... Così facciamo questi ponte, via. Le famose 15 ponte, io. Quanti punti ti ho dato? Quanti punti ti ha dato? Buongiorno... Mi sei arrivato oro. Mi sei arrivato. Sì, sì. Sì, accetto. Ma finita partita. Ma finita partita. Siamo ancora in 31. E tu che... Sì, sei arrivato oro? Sì, è arrivato oro. In che senso? Oro, ci sei? Ti punti. Allora, ne devo fare ancora punti. Vabbè, io forse ho fatto pure una minchia, tu sai? Perché? Perché sei uscito? No, che se esci... Eh... Che se esci, forse manco i punti, va. Ma vengo da tu. Kill. Già, tre kill mi sono portati via. Siamo in 27, fra... 25. Mi... Ho una se... Ho la stessa persona se ne è pulizzati... Se ne è pulizzati 7. Tua sorella, cazzo, spari. Mi qui posso vedere ancora, Luca. Eh? Perché non ho abbandonato l'aspectate, capis? Ah. Si spara... Si spara, no, bro. È là, è là, è là, è là. Vabbè? Distruggio, distruggio. Ma caglioni. Ma che te lo fai? Eh... Oh, ma che cazzo non... Perché non muore, fra... No, cazzo, sto laggando. Per la cazzo della live. No! Allo scudo con l'angola. Oh, ma hai fatto? Non sei fatto, è facile. Terminzi cui, un'eziata. No, ma fa, usai che là almeno. Fora c'è sta mu... Per la cazzo, chi lo fa, la pia, si lo fa, va, 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 va. Via. Porco giudo. Porco giudo, pesto. No, il pomo verde ha buttato. No, mi piace più questo qua. Quella là non mi piace tanto. Quando c'è il clisos... Sì, se... Anche se mi... Più la me è pure il pomo, il pomo, il pomo, il pomo, il pomo. A volte trovo uno più forte. Beh, se io devo scegliere tra un pomo blu e un pomo blu, un pomo blu, mi scegliere il pomo. Però se è più raro, se è blu, pia, voi... Voglio provare... Una e due foto, pia, va. Non c'è, sai che ci sarà un botte di gente e mi apposto e li chillo, sai che cazzo fa? Però mi apposto e li... Li disparo. Scusati però, quindi ti bende, usa. Ok, non me lo manco accorto. Cazzo, il telefono scarico. E il mio silo è caricato. Io ho il tuo carico qui, al canto. È vero che lo riesco a trovare, cazzo, il caricabatteria. Dopo ho già il caricabatteria, tantissimo cane. Andò. Mi pensi un attimo il tuo caricabatteria? Perché? Vecchino, io mi sono scordato sotto. E te lo voglio prendere? Andagnia, apri fuori, veloce. No, te lo voglio prendere? Nico! Sì! Eh! Andagnia, aspetta che c'è... Aspetta che c'è Andagnia che mi sta distraendo. Che si carica batteria. Che cazzo è, non so. Dove cazzo sta? Mi faccio un attimo. Che cazzo sta? 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 Perché mi ha so... No. Perché mi ha so... Che cazzo sta dietro, però... Che cazzo sta dietro, però... Che cazzo sta dietro. No, di studiare la struttura. Ma col colpi di scarpe. Eh, pure con questo, va. Vai, 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 vai. Sotto pure, però, sotto, sotto. Aspetta che so' richiesto. A presto di sotto. Va, 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 va. È morto. Eh, io due killzy. Sì, una minchia. Non dovrà arrivare ancora. Siamo... Aspetta, ci può essere che team? Mi ci può essere, aspetta. Aspetta, caccolia. Non mi fatti i calcoli. E' già io, cazzo. No, mi si è messo una cazzo di messaggio. Come rompi con gli... LPD. Lo secco non lo voglio. Sua sorella. Mi mi non male che tengo colpi. Ma quando si viene qualcuno giù, le si fanno una... Un'angelo di nicoiglione. Che si ricorda per... Per 200 giorni. Però io non so se... Se vuoi il cecchino... Vedevo. Però io non capisco se c'è gente. Aspetta, c'è due team da uno. No, contro due team. No, sei... Cioè, è un team contro di te. Perché due team? Eh, scusa. Due persone contro di me. Oppure uno contro uno contro uno. Ehi. Vai, fattelo. Fattelo. In destra. Bella. No, no. È come... C'è il compagno vivo. Perché non è morto subito. Eh, va. Si spara. Due cazzo sta. Dov'è? Uh, ma qui dopo la mandagnetta. Nini, ma vedi il segno. Ma va, va da chi minchia, va da chi cruci. Fra, non posso salire qua sopra, porcosa. Nini, nini, signor. No, Nini, Nico. Sta avvenendo, Nini. Nini, quel cazzo sta patendo? No, ma Nini, Nini. Nini, vai, fattelo. Nini, madonna, santa Nicola, che nabbo. È nato nabbo e morirai nabbo tu. Nini. Ma come che nabbo, Nini? Stavo sperando un lanciarazzi. Stavo parlando un cazzo. E' nato nabbo, Nini. Ho panicato. Ho panicato. Ho panicato, una miglia. Uh, più 29, posso dire. Se facciamo una vittoria, facciamo un 80. Vabbè, buona. Ragazzi, ora vedete come si gioca. Sono nato io e andiamo a posto. Io sono a 2.000, mi mancano atti 105. Ma io sono a 2.000, ancora mi mancano. Ma io mi tolgo le cuffie. ma tu cazzo, il mio cazzo di cazzo di cazzo di carica batteria. On cappi a tutti. Ettimo, sono, mi ha detto che è stata male. Bello, sei che ha detto al amore. Dari io sono andati a tutti. E' un mace. Musi lasciare i fatti maggiore a tutti. Allo sono dorso a tutti i calimenti. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, ma... No, ma... No, ma... E... 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 la mia... E... Oh... ... E... ... ... ... l'ho... ... 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